Con un utile quasi triplicato, BCC Fano si conferma una banca solida e preparata a creare e sostenere valori per il territorio. Ad affermarlo, forte dei dati di bilancio 2022 approvati dal CDA, il direttore generale Giacomo Falcioni, che snocciola i risultati molto positivi ottenuti nonostante susseguirsi di periodi non favorevoli all'economia. Numere, osservato Falcioni, che consentono alla BCC di proseguire con ulteriore slancio e fiducia gli interventi di sostegno al credito per famiglie e imprese ed alimentare lo sviluppo armonico del territorio. Direttore, il bilancio al 31 dicembre si è chiuso con un utile di 5,9 milioni ma anche con segnali di una banca in salute. Quali sono nel dettaglio i dati approvati e quali ricadute possono avere sul territorio? Sicuramente un bilancio molto positivo, a partire dall'utile nelle varie componenti, del margine di interesse, delle commissioni e anche l'efficientamento in termini di costi operative. Questo utile ha permesso di rafforzare il patrimonio, che ha altropassato i 105 milioni di euro in termini assoluti e anche l'indicatore, il CETUAN, l'indicatore della solidità di una banca secondo i parametri BCE, è stato pari al 28,5%, oltre 10 punti in più rispetto a 4 anni fa. Positivo anche l'andamento della raccolta totale, che ha raggiunto 1 miliardo e 305 milioni e impieghi clientela a 578 milioni. Quindi bilancio positivo nella logica di numeri di breve termine, ma anche nella nostra logica di missione aziendale e di continuare a creare valore per il nostro territorio, nella logica di uno sviluppo che sia sempre più sostenibile, ma alimenti anche quelli che sono i volani della crescita. E a tal proposito è in crescita anche la compagine sociale? È un dato caratteristico della nostra banca, 9.300 soci sono un terzo della nostra clientela, è un dato importante, la quota 10 mila non è lontana, lo vediamo mai nel nostro mirino, non per orgoglio, ma perché riteniamo che il socio è il patrimonio fondamentale della banca e per questo cerchiamo di assicurare, oltre ai prodotti e servizi caratteristici, anche diverse iniziative. Quindi riprendiamo anche l'accoglienza dei nuovi soci, momento importante di confronto e di relazione tra i soci stessi, oltre all'Assemblea il 23 di aprile.